ciao a tutti sono genuin aka genforty driver e benvenuti per un video pack opening molto veloce alla ricerca dei giocatori in forma della squadra della settimana 24 quello più ambito sicuramente rober ma anche griezmann non lo butto via silva pirlo rabbio rolando ce ne sono veramente tanti questi sono le riserve oltre ragazzi anche delle carte uomo partita solamente 24 ore o vietto rondon vitolo millic bene andiamo con i pacchetti ci sono i pacchetti da 15 mila crediti pacchetto oro premium maxi contiene 24 oggetti giocatori e consumabili 20 oro di cui 7 rari tra cui un extra raro solo 10 pacchetti andremo a spacchettare questi più altri 10 da 7500 vi ricordo prima di iniziare con questo pack opening di iscrivervi al mio canale di youtube di guardare i precedenti video anche e di scrivere sotto nella sezione commenti se volete inoltre il mio speciale 50 iscritti in cui potete vincere dei crediti playstation per fifa 15 ultime team partiamo subito con qualità 7500 con messi copertina congratulazioni alla roma per la vittoria contro il fenni fair nord tanto al biol e o a caso o questo caso 91 di velocità di pochi minuti fa la notizia che per il proseguimento della europa league la roma affronterà la fiorentina fiorentina roma primo pacchetto da 15 mila crediti vediamo un po che cosa ci riserva veramente veramente nessun oro raro come giocatore l'argentone raro questi da 15 mila saranno una delusione scommetto griezmann saltiamo char secondo pacchetto da 15 mila l'extra radio l'extra raro voglio vedere chi è è lui wiltshire rosinski e wiltshire alla va in copertina e da tanto che non troviamo nessuno taci 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 tua terzo pacchetto da 15 mila griezmann in copertina siani miranda oddio mio siani e miranda stiamo facendo 10 pacchetti da 15 mila crediti e 10 pacchetti oh isco solamente isco di decente da parte mia questo è il quarto pacchetto se non mi sbaglio sao incredibile sao con award in copertina e troviamo calù quinto pacchetto niente da fare per questi pacchetti da 15 mila cinque pacchetti e proprio non ho trovato nessuno mentre ora troviamo prod solamente isco giocatore decente martinez altra pacchetto da 7 mila e cinque soldato la prima odio soldato gonzalo higuain congratulazioni a tutte le italiane impegnate nell'europa league tanto di ab no proprio non ci siamo non ci siamo almeno qua qualcuno dobbiamo trovare santos questo me lo tengo al club ultimi tre pacchetti da 15 mila crediti fammi trovare almeno un giocatore if almeno uno saco tello campbell guarin si due pacchetti da 15 mila e altre tanti quelli da 7 mila e cinque zanna insomma manco chi sia gli ultimi due pacchetti ti prego hazard non ho trovato nessuno finora oddio mio non si commenta l'argentone del trapani se non mi sbaglio a eterni scusatemi con 90 di velocità esterno destro questo me lo tengo al club riscaldiamoci con questo da 7 mila e cinque poi passiamo a quelli da 15 mila per l'ultimo pacchetto qua cutigno dai l'ultimo pacchetto di questo video pack opening veramente veloce pochi pacchetti una ventina scartati oh gurkuf incredibile mette 5 mila crediti almeno questo bollais ragazzi finisce qua questo breve veloce video pack opening spero che vi sia piaciuto lasciate un mi piace a questo video se volete anche scrivetemi sotto nella sezione commenti ancora una volta vi ricordo lo speciale 50 iscritti dove potete vincere crediti fifa 15 ultimate team playstation lascerò il link nella descrizione per ora è tutto vi ringrazio ragazzi forza roma ciao da genuin a.k.a. gen43 aspettate aspettate il video non è ancora finito ragazzi sono andato avanti con lo spacchettamento solamente con quelli da 7500 e ho trovato quei giocatori sì dunque per favore lasciate un bel mi piace scrivetemi sotto nella sezione commenti qualsiasi cosa grazie ancora del supporto dunque ci vediamo al prossimo video pack opening alle prossime serie ai prossimi contest ai prossimi giveaway e ora buona visione ragazzi ciao messi in copertina non sto trovando veramente nessuno ibra 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 oddio mio oddio mio oddio mio oddio mio ragazzi ragazzi 27 febbraio 2015 venerdì primo proprietario doppione 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 qua ci vuole qua ci vuole un selfie qua ci vuole un selfie qua ci vuole un selfie oh ibra in a pack doppione 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 non ci posso credere ragazzi oh doppio bel doppio ibra anzi no si doppio ibra Seconda volta che spacchetto Ibra quest'anno Seconda volta Voglio un attimo vedere quanto costa al mercato ora Ibra Al tempo in cui l'avevo comprato 720.000 Ora, no Ah, un milione e quattro Oh, un milione e tre Oh, oh Lasciate ragazzi Un mi piace Condividete Grazie Grazie Grazie